Ciao ragazzi, nuovissimo video, in questo video vi volevo fare un video haul dei prodotti che ho acquistato sia di vestiario che di beauty in questi giorni. Allora comincio subito dal vestiario, scusate che tolgo qua qualcosa. Sono stata D'Arte e Genis e D'Arte e Genis ho acquistato, vabbè, le classiche, tre pade di mutande in offerta, poi una tuta, ho preso una tuta a due pezzi, perché erano tutte e due pezzi, ho preso il zolto e il pantalone così con il cuoricino, ho preso un L, l'ho pagata 9,99€ ed è fatto così, lungo, con l'elastico giù alla caviglia e l'elastico su qua in vita. Poi, sopra invece è fatto così, è la classica zip, ho preso una L anche di sopra con il cappuccio, è sempre fatta con i cuoricini, e questa l'ho pagata, è 100% poi cotone, 12,99€, è fatta così e in fondo ha anche i cosini da chiudere, ed era molto carina. Poi, una cannottina bianca che è cotone e anche questo, l'ho presa una sola, ha 5,99€ e di sopra ho preso un XL, per farci un po' più comoda, ed è la classica bianca. E poi ho acquistato anche di taglia L, due pacchi di 40 denari, e semi opachi, perché fanno sempre molto comodo. E in totale ho pagato 44,95€. Poi, di Beauty, alla Coff, ho acquistato due pacchetti di Acqua L'Alfo della Cotton Plus, della Cotoneve, volevo dire, scherzavo. Cotoneve e due di questi, perché comunque fanno comodo, e ho acquistato un pacco di Ivy Gorchel, queste qua. Poi, siamo stati da Risparmio Casa, da Risparmio Casa, ho acquistato un emulzio mangiapolvere antistatico, questo qua pulisce e elimina la polvere, causa di allergie, maniolia e gelzomino, e lo vado subito a provare, e poi quando finisco il video. E poi, la classica cartigenica. Pazzoletti. Poi ho preso questi qua, che erano offerte a 99 centesimi. Questi qua, Complete Care. Poi, ho preso un pacco di salvetti struccanti, questi qua, sì, di faldini di cotone struccanti, a 1,99 euro, della linea Risparmio Casa, vedi? Poi, un sapone per le mani da un litro del Risparmio Casa, questo qua, mango e papaya, che sia mani che viso. Ci troviamo molto bene, costa 69 centesimi. Poi, abbiamo preso altri due prodotti, e abbiamo preso un intimo ultra delicato della Venus, a 69 centesimi anche questo, e a 99 centesimi uno svelto al limone per lavare i piatti. Niente, ragazzi, questo era tutto, ci vediamo al prossimo video.